Oggi 2 gennaio partono ufficialmente i saldi, ma prima di parlare dei saldi ci sembrerebbe opportuno tracciare un bilancio di come sono andate le vendite, soprattutto ai commercianti del centro storico, nel periodo natalizio. Le vendite ci siamo difesi, adesso ci aspettiamo sinceramente un dialogo con l'amministrazione che possa permetterci di ritornare in gara in questa città, perché siamo stati ghettizzati abbondantemente e quindi abbiamo bisogno di ricucire un dialogo che non è mai partito con il sindaco Ruvolo. Per quanto riguarda i mercatini di Natale, l'ordinanza che comunque proviene dallo Stato di chiudere tutte le strade del centro storico e l'accesso al centro storico, vi ha creato disagi ulteriormente? Assolutamente sì, perché comunque avevamo già presentato una nostra idea per cercare di favorire la circolazione delle auto, ma anche questa volta siamo stati bloccati perché bastava spostare un pochettino il mercatino e tutta la città ne avrebbe usufruito. Quindi adesso con i saldi cosa vi aspettate? Qualcosa in più o comunque col problema traffico e parcheggio, che qua è impossibile parcheggiare, dispiace dirlo ma è così, pensate di non riuscire a lavorare molto? Allora, noi sicuramente non siamo tutti attività nuove, siamo tutte attività storiche, quindi il mestiere lo conosciamo abbastanza bene, conosciamo il mestiere, conosciamo i clienti, conosciamo il mercato, quindi abbiamo tutte le potenzialità per poter affrontare quest'anno nuovo. Il primo problema secondo me in questa città è far ripartire il dialogo con l'amministrazione, perché la parte del leone la fa l'amministrazione. Se l'amministrazione continua a seguire queste sue scelte senza dialogare con noi, cioè significa con il mondo imprenditoriale, penso che il danno sarà consistente. L'ultima volta che avete tenuto una conferenza stampa, voi commercianti e le sigle sindacali avete detto che eravate disposti ad un'azione legale nei confronti del comune, se non riaprivano il centro storico al traffico? Allora, non è partito così, abbiamo trovato una sponda valida nella Confesercenti, che praticamente ha fatto una richiesta all'amministrazione della documentazione, se queste chiusure erano tutte a norma, perché sinceramente noi non pensiamo che un'amministrazione possa chiudere delle strade così d'amblè. Quindi c'è da valutare, la città non appartiene alle auto ma appartiene ai cittadini e finché i cittadini non riscendono in piazza è bene chiedersi perché. E soprattutto chiedersi perché anche gli stessi cittadini che continuano a volersi riappropriare del centro storico devono trovare tutte queste difficoltà.